Il TAR chiude la vicenda dell'insediamento nel progetto case di sassa al nucleo industriale della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco. Come si ricorderà, c'era stato il ricorso di alcuni inquilini del progetto case che chiedevano l'annullamento degli atti del Consiglio Comunale, con i quali era stata scelta quell'area per collocare la Scuola dei Vigili nel piano case dove abitavano. Il Comune, con un provvedimento datato 17 gennaio 2022, aveva intimato i residenti di riconsegnare gli appartamenti entro il 7 febbraio del 2022. Il TAR sostanzialmente ha dichiarato la cessazione della battaglia legale perché di fatto è caduto l'interesse e dunque la prosecuzione del contenzioso è improcedibile perché tutti gli inquilini, in pratica, si sono trasferiti nel frattempo trovando l'accordo con il Comune. Sulla vicenda c'erano state diverse assemblee e diverse inquilini, capitanati da Antonio Perrotti del Comitato RP edilizia residenziale pubblica, avevano deciso di fare ricorso ma poi nel frattempo tutti hanno raggiunto l'accordo col Comune sulle nuove destinazioni. Da questo punto di vista quindi non ci sono più ostacoli. In pratica però cade anche la questione della variante urbanistica necessaria per il Comitato che ritiene la zona incompatibile dal punto di vista alluvionale e sismico che era stata inserita comunque nell'impugnativa. Il TAR ha preso solo in considerazione l'aspetto degli inquilini ma per Antonio Perrotti tecnicamente quest'ultima questione potrebbe rimanere aperta perché l'esposto era stato inviato anche ad altri attori. Per il Sindaco non ci sono più ostacoli e ora si può proseguire con tutti gli atti successivi. Il demanio può prendere l'area. Ostacoli non ce ne sono mai stati in realtà perché noi sapevamo che questo sarebbe stato l'esito. Era chiaramente una manovra pre-elettorale che alcuni hanno pensato bene di sobillare la pancia di inquilini che sono stati trattati in maniera eccellente dall'assessore alle opere pubbliche Vito Colonna e dal settore patrimonio e progetto case che ha provveduto con grande preparazione a ricollocare tutte le famiglie e finalmente possiamo riprendere uno dei progetti più importanti che riguarderanno la città nei prossimi cinque anni. Quali saranno gli step a questo proposito? Come si sta procedendo? A questo punto l'agenzia del demanio può prendere possesso dell'area e il commissario delegato dal governo alla realizzazione dell'intervento, il provveditorato alle opere pubbliche, l'ingegner Ravisarda può dare avvio alle attività di progettazione e poi di affidamento dell'esecuzione dei lavori.